14 arresti, 7 in carcere e gli altri ai domiciliari ed un sequestro di beni per un totale di un milione e mezzo di euro. Questo è il risultato dell'operazione denominata Ginetto, scaltata all'alba del 13 dicembre scorso, condotta dagli uomini della Guardia di Finanza di Crotone. Il vasto blitz di polizia economico-finanziaria ha portato avanti nei confronti di un'articolata associazione a delinquere che, secondo gli inquirenti, avrebbe operato fra il crotonese, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Sottoposte ad amministrazione giudiziaria otto società attive al nord. L'operazione Ginetto è dedicata al nostro compianto Luigi Cavarretta. Sì, è un'operazione che ha smantellato un'organizzazione delinquenziale che era dedita a creare delle imprese operanti sul territorio di Crotone solo fittiziamente. Perché non erano altro che la risultante di imprese decotte al nord e quindi con un'operazione di cessione di quote, di cambio della sede legale, di cambio del rappresentante legale. Qui venivano portate solamente le carte, quando poi addirittura non sparivano. Mi riferisco anche alla documentazione amministrativa o contabile che noi molte volte non abbiamo rinvenuto, perché è una delle tecniche adottate nei reati fallimentari proprio per non permettere la ricostruzione del volume d'affare. La parte buona, sana delle imprese era quella che rimaneva nel nord Italia. Le aziende sottoposte a sequestro sono tutte aziende insistenti in Liguria, in Lombardia e in Piemonte. Questa operazione nasce da segnalazioni per operazioni sospette, che è un grosso bacino informativo utilizzato dalla Guardia di Finanza prioritariamente per il riciclaggio e il contrasto al terrorismo, ma che molte volte nasconde tanti altri reati di tipo economico-finanziario. A questo si è aggiunto un'attività di analisi condotta personalmente dal procuratore e dal mio reparto. Le teste di legno sono tutte presenti qui a Crotone, sono signori crotonesi, chiaramente si assumevano un grosso rischio per quanto riguarda poi le conseguenze di queste condotte e a fronte di un guadagno infinitesimale rispetto a quello che era l'interesse economico sottostante. Noi lo chiamiamo il dominus, il capo, l'organizzatore, il promotore e il signor Storari Alberto di Novara. Ha un trascorso crotonese, nel senso che era qui tanti anni fa nel Cirotano ed è lui che organizzava, aveva i contatti qui sul territorio e questo contatto il reclutatore, il signor Chiodo, poi non faceva altro che trovare queste persone che, ahimè, si prestavano ad assumere il ruolo di imprenditore, di rappresentante legale di queste società. Le ordinanze emesse dal CIP Michele Ciociola su richiesta del sostituto titolare delle indagini Gaetano Bono hanno portato in carcere in particolare quattro crotonesi che sono accusati di aver fatto parte di un gruppo delinquenziale con contatti ramificati nel nord del paese. Secondo la tesi degli inquirenti erano loro che si occupavano di far fallire presso il tribunale del capologo pitagorico società che erano in difficoltà economica e con rilevanti debiti tributari. Vi erano degli elementi che avevano fatto prescegliere alle persone di questa associazione di potersi recare qui a Crotone rischiando meno che in altre zone. In questo senso si può parlare piuttosto di discariche perché parliamo di società che non avevano nessuna possibilità di lavorare, non state svuotate, erano delle scatole vuote e quindi piazzarle qui a Crotone non comportava nessuna conseguenza nel tessuto economico se non quello di abbassare e deprimere ulteriormente il livello di sicurezza imprenditoriale in quest'area. Anche in questo campo riteniamo di voler ricominciare in maniera nuova per dire che qui non c'è impunità per nessuno nei limiti delle nostre energie, delle nostre forze, delle capacità e dei poteri che la legge ci consente e vogliamo in qualunque settore, fosse quello dei rifiuti, fosse questo, delle società fasulle che arrivano qui come in tanti altri che spero nei prossimi mesi di poter mostrare e veramente vogliamo cambiare pagina. Un danno allo Stato molto molto pesante? Sì, questo è un elemento importante, decine e decine di milioni di tasse sottratte allo Stato, fornitori che non sono stati pagati, lavoratori che non sono stati pagati, distruzione di attività di tessuto produttivo, frodando gli imprenditori che invece con grande fatica affrontano i debiti e vanno avanti regolarmente. Qui c'è una frode anche nei confronti di chi lavora onestamente, di chi si sforza di far fronte ai propri debiti. Qui i debiti venivano scaricati sul nulla, cioè su di noi. Il dottore Bono ha dedicato veramente tantissima energia, tanta attenzione da parte del GIP, ci sono voluti mesi e mesi per scrivere l'informativa e anche per redigere la richiesta di misura cautela, veramente tanti mesi. Quanto è il danno allo Stato? Di quanti milioni di euro si parla? Parliamo di oltre 140 milioni di tasse evase. Nel 2015 i finanzieri avevano approfondito una serie di cosiddetti SOS, cioè delle segnalazioni per operazioni sospette, individuando le tracce di un presunto sistema criminale che sarebbe stato creato per costruire e condizionare i fallimenti. La Procura, raccogliendo l'intuizione delle fiamme gialle, aveva già avviato una complessa indagine che dopo circa due anni di analisi documentali, intercettazioni telefoniche, pedinamenti e osservazioni, avrebbe permesso di ricostruire le vicende contestate. Una banda, un'associazione più che banda, che era radicata al nord e che verso il sud riteneva di essere immune da controlli, non è stato così. Ma intanto mi auguro che si capisca già il messaggio, come diceva anche il procuratore della Repubblica, che nella zona del Crotonese le attività di indagine si fanno, i processi si fanno e che quindi non è terra di conquista per nessuno. Secondo, far capire che non tutti le realtà negative dell'economia del Crotonese sono addebitabili al sud, ma che molto spesso anche il nord una parte ce l'ha. Diciamo che a livello di contrasto investigativo e giudiziario sicuramente sì, perché è lo Stato che si muove e non abbiamo compartimenti stagno. A livello di economia mi piacerebbe tanto poterlo dire, non è ancora così. Forse ho la presunzione di pensare che, continuando a operare in questa maniera, questo gap che purtroppo ancora registriamo possa diminuire nel tempo e che fra non molto si possa parlare di un sud che sia al pari, se non al superiore al nord, perché le potenzialità ci sono tutte. Le società del nord, che erano in crisi economico-finanziaria, hanno scaricato le loro voci di bilancio intossicate su 34 società che hanno allocato nel sud. È evidente che poi vanno anche a sfalsare quelle che sono le statistiche, perché le società fallite nel crotonese hanno avuto un più 34 che non è reale, perché non erano realtà economiche della zona. Il ruolo della Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria, noi lo ripetiamo in continuazione, lo sottolineiamo, lo scriviamo, polizia economico-finanziaria economica, ha un significato ben preciso. La tutela dell'economia, la tutela del mondo finanziario, la tutela dell'aspetto economico-finanziario di un territorio è la tutela diretta dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese. Il nostro lavoro è orientato a quello, un'operazione del genere come tante altre, come quando andiamo a fare i controlli in materia di spesa pubblica, quando andiamo a fare i controlli su chi legittimamente riceve i contributi piuttosto che no. Noi lavoriamo per cercare di aiutare la concorrenza, di aiutare le imprese, di aiutare i lavoratori, che i lavoratori dipendenti non perdano il lavoro perché qualcuno si ruba i soldi. Questo è il significato pratico, scusate anzi se l'ho detto magari in termini poco aulici, ma con un linguaggio piuttosto diretto. Questo è il lavoro della Guardia di Finanza, questo significa polizia economico-finanziaria. In generale io esprimo la... Grazie! Grazie! Grazie a tutti per la visione!